Ok caro Gabriele, siamo in diretta, questo è un dispositivo post-mediale che si è messo fra me e l'introduzione, ma molto bene, benvenga, siamo con un leggero ritardo per motivi tecnici, ma siamo in diretta. Allora, caro Gabriele, come vedete tutti quanti, il nostro ospite è qui presente, Ruggero Eugenio, lo salutiamo, gli diamo il benvenuto, ciao Ruggero, adesso poi ti daremo anche la parola. E siamo qui, caro Gabriele, con il nostro 6541esimo episodio di Semio Boomer, con mal contato, a parlare oggi di questo volumetto, lo chiamo volumetto, ma gli faccio un torto, naturalmente. Capitale algoritmico, 5 dispositivi post-mediali più 1, è un libro recente, 2021, morcelliana, sarò breve ma cerco di essere completo. Ne parlavamo prima off-camera, Ruggero con Gabriele, il libro è un libro bello anche e soprattutto perché tu hai uno stile di scrittura, diciamo prima, invidiabile, cioè ti si legge come, non so, si sgranocchiano i popcorn mentre si guarda un film, quindi è veramente un'attività piacevole leggere il modo in cui scrivi, però in realtà è un libro difficile, cioè si fonda in effetti su una proposta teorica che non è che sia una roba scontatissima, ecco. In realtà è una proposta teorica che segue, diciamo, in maniera direi genealogica quanto tu dal 2015 hai iniziato a sostenere con grande successo, cioè la sostanziale rottura e spaldatura dei confini fra i mezzi di comunicazione e la configurazione di una società e di una condizione, tu diresti post-mediale. Il libro si presenta come, appunto, con un'introduzione e poi con una case history di 5 più 1 casi che vado a riprendere veramente velocissimamente, ma sono, ripeto, molto molto belli. Nel primo caso tu ti occupi dei Google Glass, parti dai Google Glass come dispositivo in qualche modo che ci dimostra come all'interno di queste forme di nuovi assemblage si possano identificare dei sistemi di regolazione dei flussi di risorse economico-politiche e in qualche modo dei circuiti di governamentalità. Mi piacciono molto i riferimenti che ci sono dentro, cioè compare Bifo che sarà con noi la settimana prossima, con il sebbio capitalismo. Introduci il tema del dispositivo post-mediale e già da qui io poi la prima domanda credo Gabriele possa essere che cos'è un dispositivo post-mediale. Nel capitolo 2 tu ci parli di tutta una serie di cose che hanno a che fare invece con la luce ed è molto bella, secondo me, questa idea di una semiotica della luce. Un attimo che sto prendendo l'indice perché ho anche i miei appunti, ma vorrei ragionare con l'indice anche davanti che in questo preciso momento... Le camere a campi di luce. Parte molto interessante su questa cosa che io non conoscevo, la Litro Illum, questa fotocamera che tu definisci in molti modi ma che avrebbe quella che chiamiamo funzione plenottica, capace sostanzialmente non tanto soltanto di rilevare un'immagine bidimensionale, ma in qualche modo di costruire un'immagine tridimensionale che ci si dà come una sorta di dataset o tu dici di data cube, quindi l'importanza del dato come descrittore della realtà, e l'idea in qualche modo che l'immagine non sia più qualcosa che si produce ma qualcosa che si estrae. L'estrattività delle immagini. Vai al capitolo 3 e ci parli della visione implementata con un discorso specifico sui visori notturni nell'ambito soprattutto del contesto militare, e anche qui appunto il modo in cui la visione implementata si fa algoritmica e quindi viene digitalizzata, diventa computerizzata, e in quest'atto di computerizzazione si reifica in qualche modo una algoritmizzazione dell'immagine. Bella anche la parte su Zero Dark Thirty, insomma come fai cinema non mi dispiace. Parte 4, Extended Reality, tutto quello che ha a fare quindi con Virtual Augmented Reality, per i lettori più eugenimaniaci troverete anche una foto di Ruggero Eugeni con un'espressione Ruggero, diciamo in ebbetita dopo un'esperienza particolare che è quella di Star Wars Secrets of the Empire, mi sembra fosse il titolo. I fan possono ritagliare l'immagine e farsi un santino volendo. Esatto, ma ve la faccio anche vedere, guardate, perché è un'immagine che prorompe e che ti osserva e che ti guarda e tu sei estasiato mentre vedi questa immagine di Ruggero Eugeni appena uscito da Star Wars Secrets of the Empire. Poi capitolo 5, le reti generative avversarie e avversariali, anche qui interessante perché ci introduce al tema dell'arte artificiale, la creatività artificiale, naturalmente il ritratto di Edmond de Bellamy, capitolo 6, le fotomicrografie con tutto quello che ne concerne e anche qui stiamo parlando di dispositivi della visione di un certo tipo. Vado a chiudere Gabriele dicendo che una delle cose belle che fa Ruggero è che da un lato è estremamente frizzante la scrittura, però poi è uno molto preciso. Ad esempio, quando parliamo di dispositivi di visione, lui ci propone una tipologia effettiva, che è la tipologia che ho segnato la pagina, la vado a recuperare, è anche schematizzata a pagina 163 e ci dice che i dispositivi algoritmici di realtà estesa, ad esempio, possono produrre esperienze astantive, astantivo immersivo, immersivo moderato, immersivo radicale, eccetera, eccetera. Cioè, anche questo sforzo di tipologizzazione si configura come strumentale a chi volesse entrare nel campo fecondo, estremamente contemporaneo e teoricamente ingaggiante dei dispositivi di visualizzazione, della data visualization, delle realtà estese e in generale dell'algoritmizzazione delle immagini. Quindi, Gabriele, ho cercato di dire più o meno tutto male, lascio a te la parola e poi la diamo al nostro caro Ruggero, ecco. Sì, no, io ho il compito sempre divertente per quanto mi riguarda di introdurre l'ospite preparando una scheda, diciamo, biobibliografica, ma prima ci tengo a dire che effettivamente il libro di Ruggero è perfettamente, in maniera serendipitica, diciamo, collocato a metà tra tutta una serie di cose che abbiamo fatto finora a Semio Boomer, basti pensare al libro di Maria Giulia Dondero che tratta cose molto affini, particolarmente all'ultimo capitolo, che è un po' il cuore del libro di Ruggero, ma anche altre, diciamo, suggestioni, poi comunque noi abbiamo presentato il libro, cioè il saggio di lexia sulla VR curato da Gianmarco e da Victoria e da Federico, appunto la settimana prossima avremo Alessandro Sarti e Bifo e parleremo di, diciamo, a partire dall'ultimo libro di Bifo, parleremo di una serie di cose di cui entrambi si sono occupati che hanno a che fare con l'idea di poter rendere conto della complessità, diciamo, degli scenari contemporanei e soprattutto mediali contemporanei, appunto, appunto, prima di introdurre Ruggero io dico che il libro è, secondo me, fantastico, mi ha entusiasmato, quindi lo ringraziamo che è qua, diciamo, a farsi sfilettare dalle nostre domande, non mi spendo in ulteriori sbrodolamenti, presentiamo Ruggero anche se non ce n'è bisogno, però fatemi fare questa cosa carina. Allora, Ruggero Eugeni è ordinario alla cattolica, insegna, appunto, alla cattolica materie che hanno a che fare con la semiotica e con l'audiovisivo e con il linguaggio filmico. Sempre per ricostruire, come dire, il contesto, la storia, la genealogia, Ruggero è allievo di due, tra i tre, probabilmente quattro fondatori della semiotica, del cinema e dell'audiovisivo, cioè di Francesco Casetti e di Gianfranco Bettetini. Gli altri due nomi che, diciamo, possiamo aggiungere a questo poker incompleto sono, ovviamente, Christian Metz e Roland Barthes, per altri versi. Però, insomma, qua in Italia, sul discorso semiotica e cinema, siamo stati fortissimi, con polemiche storiche, con Pasolini, insomma, era un periodo entusiasmante. Cito un po' di libri perché, confesso che alcune cose le ho scoperte per fare questa ricerca bibliografica oggi e mi mancavano. Mi piace citare, adesso vedremo la reazione di Ruggero o la controrisposta di Ruggero. Da quello che ho capito, la prima pubblicazione di Ruggero è un libro del 1988 per le piemontesissime edizioni dell'Orso, che è una curatela con Gianpaolo Caprettini, si chiama Il linguaggio degli inizi, letteratura, cinema, folklore. Ovviamente io questo libro non ce l'ho, ma ho sfruculiato su Google Books per capire di che cosa parlasse questo libro e da quello che ho capito parla di una cosa molto semiotica, come il titolo lascia intuire, cioè degli incipit della letteratura, del cinema, quindi una cosa, mi sembra, molto ghiotta che cercheremo di recuperare. Poi, invito al cinema di Stanley Kubrick, Mursia 95, ristampato varie volte. Libro, qua parlo, diciamo, prodomomia, fondamentale per tante persone, ma per me fondamentale, Analisi semiotica dell'immagine, 99. Altro libro fondamentale, La relazione d'incanto, studi su cinema e ipnosi, da cui ho parassitato tutta una serie di... Capolavoro, capolavoro, posso dire? Capolavoro. Beh, io personalmente ho parassitato un sacco di cose sull'enunciazione che Ruggero bignamizza in maniera, secondo me, perfetta. Semiotica dei media, libro strafamoso per Carocci 2010, adottatissimo, utilizzatissimo. E poi arriviamo, diciamo, al più recente tra i passi monografici di Ruggero, che anticipa il nostro capitale algoritmico, cioè la condizione post-mediale. Librettino asciutto, ma densissimo. Quello che presentiamo oggi sono 300 rotte pagine, asciutto non è, è altrettanto densissimo. Mi piace ricordare un altro testo fondamentale, perché è una curatela, ma è importante. Raffaello Cortina, 2017, con Adriano D'Aloia, Teorie del cinema, che tu, Bruno, conosci molto bene e che, insomma, è un testo importante. Poi, chiudo, scusatemi, non mi volevo dilungare, ma mi piace citare, io che sono un po' fanatico delle bignamizzazioni fatte bene, delle enciclopedie, dei manuali, questa roba qua, uno dei testi migliori che si possano leggere per capire cos'è la semiotica, secondo me, in una maniera molto piana, molto pulita, che però mette assieme tante cose complicate e che si trova ancora miracolosamente online, è una dispensa di una quarantina di pagine del 2011-2012, che si chiama La semiotica contemporanea e una breve introduzione, che inizia con un aneddoto autobiografico, eccetera, eccetera. Secondo me, ottimo testo di introduzione alla disciplina. Poi, prima di passare alla prima domanda, se voi andate su ruggereuggeni.com, capite anche che Ruggero è simpatico, perché a un certo punto c'è una mappa del sito, si possono fare un po' di cose interattive, come capita con gli ipertesti, quindi puoi scaricare il cd, puoi visitare, c'è scritto visit my academic site, contact me, quindi clicchi e mandi l'email con Outlook, e poi c'è scritto do nothing, quindi tu clicchi su non fare nulla e non succede niente. Allora, Bruno ha già fatto capire, diciamo, quanto è ricco il... Bruno, se vuoi parto io, poi insomma tanto facciamo... Ok. Mi piace sottolineare molto una cosa che con Bruno ci siamo già detti tanto, e che non è tanto relativa al contenuto in quanto tale, ma, diciamo, alla forma dell'espressione del libro, che mi sembra molto studiata, molto curata, e che proprio perché il libro è molto denso, va incontro al lettore capendo che forse era necessario farlo. Cioè, per chi non avesse già letto o visto il libro, il libro è composto di sei capitoli, ogni capitolo, privo di nota a piedi pagina, presenta una serie di casi o un caso principale, con una scrittura molto frizzante, che interpella direttamente il lettore, quindi non è una roba... non cilicio, diciamo, letterario. Si legge molto bene, ma tutti gli apparati sono fondamentali, perché Ruggero si, come dire, autobignamizza, si autosintetizza, fino all'introduzione, dicendo, chi non avesse tempo, legga queste righe che seguono subito, esatto, oppure vada direttamente al capitolo sei, che è il cuore del libro, lì faccio sistema di tutto quello che dico prima. Ma appunto, molto interessante, secondo me, da un punto di vista della forma testuale, il fatto che tutti i riferimenti sono spiegati, disimplicati e poi sviluppati in capitoli che di fatto sono capitoli paralleli, alla fine di ciascun singolo capitolo. Questa cosa mi è molto piaciuta, perché è un po', come dire, gli ho invidiato queste... ok, gli ho invidiato questa idea di scorporare l'ossessione che abbiamo tutti per la bibliografia, le note e i riferimenti, e creare una sorta di centro alternativo di possibile lettura del libro. Quindi questa cosa, secondo me, è un valore aggiunto. Guardo un attimo i miei appunti... Ah no, ecco, sottolineo un'altra cosa, poi vado alla domanda, scusate, mi sto dilungando moltissimo, ma ci tenevo a dire alcune cose. Effettivamente la scrittura di Ruggero è molto piacevole, a un certo punto, praticamente nelle conclusioni, lui induge in immagini molto poetiche, è una cosa inaspettata, forse questa, come dire, questa tipologizzazione delle componenti della dimensione post-mediale in cui la luce ha un ruolo fondamentale, illumina tutto di una certa poesia malinconica, a un certo punto dice immagini che reinventino i dispositivi, che dischiudano intorno a noi una nuova economia politica della luce, cioè siamo veramente tra la teoria critica e, non lo so, un bellissimo passo di poesia, comunque molto bello. Allora, in realtà nego il suggerimento che Bruno mi aveva lanciato, quindi chiederti cos'è un dispositivo post-mediale, perché mi ossessiona tantissimo una cosa che mi sembra fondamentale, che tu fai, quantomeno dai tempi dei tuoi studi su cinema e ipnosi, lo dici in maniera molto esplicita, e che qua è didatticamente spiegato e mostrato in maniera, secondo me, molto chiara. L'importanza, come dire, del lavoro filologico rispetto ai precedenti del fenomeno che stai studiando, è che tu giustamente chiami ricerca archeologica, cioè tu di ogni dispositivo di cui ti sei occupato in questo libro in particolare, rintracci la storia, ma non la storia semplicemente da un punto di vista, come dire, evenemenziale, no, la storia semiotica in qualche modo di questo fenomeno. Questa cosa mi sembra molto importante, penso che non tutti quelli che si occupano di media lo facciano e lo facciano bene, quindi mi sembra una cosa interessante per noi che ci occupiamo di semiotica dei media, e quindi ti chiedo se vuoi dirci qualcosa su questo approccio archeologico che hai e che tu effettivamente sottolinei in tutte le parti paratestuali del libro che sono molto importanti. Ma, innanzitutto, grazie di cuore di questo invito, che mi fa davvero molto piacere, perché la vostra è una serie molto bella, io non riesco a seguirla in diretta, ma poi ne recupero alcuni autori che mi interessano, e quindi, come si dicevano, complimenti per la trasmissione. Dunque, questa domanda, direi, mette un po' in gioco la questione di che tipo di semiotica oggi si può fare o può fare un mediologo, nel momento in cui la semiotica si trova sugli scaffali dei supermercati accademici, fianco a fianco, con tantissime altre discipline, anche soltanto volendo tirar su quelle che uso io, pensiamo appunto all'archeologia dei media o alla ecologia dei media, quindi una lettura dei media rispetto all'interazione con le ricchie ambientali e che rappresentano un po' queste altre, per non parlare poi ovviamente, di una biologia dei media e quindi appunto di un approccio biologico, neurobiologico, sto parlando di tante direzioni che vari colleghi che anche hanno un po' bazzicato con la semiotica, oppure sono stati anche semiotici, come il mio maestro Francesco Casetti, per esempio, hanno fatto e che sono tutte in direzioni che hanno preso il posto di quella che una volta era la tendenza sociologica e culturologica, con tutti i malocchi che essa portava con sé. Ora, io penso che una riflessione sullo statuto epistemologico della semiotica in questo nuovo contesto, ripeto, animato da queste tendenze che per brevità ho chiamato archeologiche, ecologiche, biologiche, ma sia necessario. Io a questo proposito ho solo due idee che vi dico, la prima è che secondo me la semiotica secondo me la semiotica obbliga a indirizza verso un esame degli oggetti, quindi ha una valenza diciamo positiva, empirica, che altre discipline non hanno. Questa, diciamo così, fa parte di una vocazione empirica richiamata tante volte, per esempio da Paolo Fabri, che credo sia un portato importante perché ci costringe a quella pratica che voi conoscete bene, sicuramente la conosce Bruno, perché sono stato costretto a leggere il suo lavoro, che è la pratica dell'analisi, di un'analisi onesta, puntuale, di un corpo a corpo con i testi o con gli oggetti. Questo è un primo insegnamento che penso di usare. C'è poi un secondo insegnamento della semiotica che secondo me è molto importante in questo momento ed è la capacità a partire dagli oggetti e anche a partire dall'acquisizione di altre discipline di costruire modelli a un livello metadisciplinare, modelli coerenti che si situino ad un livello metadisciplinare. Questo vuol dire che abbracciano trasversalmente i risultati di più discipline, ma orientano anche al tempo stesso questi modelli, lo sforzo di queste discipline. Aiutano un po' le discipline a capire che cosa stanno facendo, le une rispetto alle altre, senza però fare il salto ancora più astratto verso, diciamo così, una filosofia del linguaggio. Oggi potremmo dire una filosofia della mente o una filosofia della cognizione, che va benissimo fare. Claudio Paolucci lo fa nell'ultimo libro Cognitive Semiotics, lo fa molto bene, io penso. Quindi va benissimo farlo, però in questo livello intermedio tra gli sforzi analitici di singole discipline, compresa la semiotica, compresa la semiotica diciamo applicata. E una filosofia della mente, della conoscenza eccetera, sta secondo me un valore epistemologico molto importante, diciamo storicamente attestato in realtà, se vogliamo andare a vedere, soprattutto direi nella matrice sossuriana e quindi strutturalista della semiotica. Detto questo, nel libro faccio una serie di queste cose, indubbiamente è molto importante l'analisi dei dispositivi, è importante considerare, io penso, è importante considerare che i dispositivi implicano delle discorsività molteplici e intrecciate, come ci insegnano gli amici e i colleghi che hanno da sempre analizzato gli oggetti tecnologici, gli oggetti di design, l'interoggettività, penso a Gianfranco Marrone, Dario Mangano e tanti altri. Penso che quindi questa complessa interdiscorsività degli oggetti tecnologici, in particolare degli oggetti tecnologici che servono a relazionarsi con le immagini, vada accolta in tutta la sua complessità, compresi gli aspetti strettamente tecnologici e qui c'è appunto un dialogo, si apre anche un dialogo possibile con l'archeologia dei media, che come sappiamo è molto attenta alle logiche implicate dalle tecnologie. Detto questo, a me sembra che all'interno di questa discorsività complessa, e qui finisco, vi giuro, non vada poi dimenticato un altro aspetto, che è quello, diciamo pure economico, quello che io chiamo economico-politico. Gli oggetti sono portatori di progetti di relazione, progetti di interazione, ma anche di progetti, proprio attraverso le interazioni e le relazioni, di progetti di distribuzione delle risorse, quindi anche di capitalizzazione delle risorse. Lo sono sempre state, in questo momento lo sono in modo particolare, se volete poi diciamo il perché, ne parliamo, però in sostanza, sempre per restare all'approccio su cui mi avete sollecitato, in sostanza anche qui non si tratta di rinnegare la semiotica, assolutamente, ma di riscoprire tutte quelle valenze politiche, anche, diciamo così, vorrei dire, di battaglia, di operatività politica della semiotica, che oggi sono un po' dimenticate, perché, come dice qualche filosofo illustre, non siamo più in un'età della rabbia, ma forse non solo con la rabbia si fa politica, ma si fa politica anche con un ragionamento più pacato, più freddo, più spietato, e la semiotica lo ha fatto in passato, lo ha fatto, prima parlavamo di Roland Barthes, con tutto la, diciamo così, il ripensamento, ecco di nuovo, filone metadisciplinare, il ripensamento della teoria critica francofortese, che c'è molto forte in Barthes, direi più forte in Barthes che in Morenne, è decisamente più forte, tra, diciamo, gli esuli della filmologia, Barthes è più politico rispetto a Morenne, per non parlare dei neuroscienziali, o degli estetologi, quindi, ma c'è altrove, anche in tradizioni un po' dimenticate, oggi pochi ricordano Ferruccio Rossilandi, che è stato però un semiologo dell'economia politica molto interessante, qualcuno con Pera Ghebranda e altri stanno recuperando una semiotica del denaro, è una tendenza interessante, secondo me bisogna, così come altri, compreso Jacques Fontanier, stanno recuperando una semiotica del dispositivo, ecco, mi sembra che siano direzioni di ricerca su cui valga la pena lavorare, perché la semiotica non sembri fatta da un gruppo di illusi, ma sembri sia fatta da persone molto consapevoli del ruolo economico-politico, che non solo le immagini, ma tutti i segni svolgono all'interno degli ambienti complessi in cui ci troviamo a vivere, operare e anche a fare semiotica. Prodomo nostra, Ruggero, approfitto dei tuoi stimoli per segnalare al nostro amato pubblico che sia sul libro L'ultimo di Paolucci che su Ferruccio Rossilandi trovate degli episodi di semioboomer per approfondire le questioni. Io invece però riparto da dove ci hai traghettati per chiederti, ti avrei chiesto in realtà, fino a partire dal titolo, su questa vocazione oggettuale o cosale che sta alla base della tua lettura dei dispositivi postmediali e su come questa poi si intrecci alla questione del capitale, visto che tu non a caso chiami il libro Capitale Algoritmico, che è un titolo, voglio dire, che in qualche modo brilla, cioè chiede di essere letto in quel tipo di luce. E a proposito di letture in quel tipo di luce, aggancerei poi la domanda, secondo me è una delle parti più illuminate, rimanendo nella metafora, che è questa tua sostanziale semiottica della luce, direi io, dentro il volume. Mi riferisco a qualcosa che tu menzioni fin dall'introduzione, ma che poi approfondisci soprattutto nel capitolo secondo. Avendoci salutato nel capitolo primo, dicendoci che il dispositivo è al contempo un referto e un reperto, no? E quindi avendoci detto che il dispositivo, anche questa parola molto politica, cioè non credo sia un caso, è forse il caso di dire perché li chiamiamo dispositivi e non in altro modo. Il dispositivo è un referto, cioè ci racconta di una congiuntura storico-politica precisa, ma è anche un reperto nella misura in cui una lettura archeologica lo tratta in quei termini, no? E poi appunto ci viene a dire la luce, il modo in cui la luce genera le immagini che possono essere prodotte, ma possono essere anche estratte, ma possono anche essere interpolate nel contesto della CGI, quindi del computer generated imagery, dell'immagine computazionale, diventano qualcosa di diverso in cui è rilevante il discorso dei dati, è fondamentale, forse il vero luogo dove si gioca l'economia della luce, no? Il fatto che la luce sia datificata. Alcuni hanno parlato in tempi recenti di dataism, no? Una specie di nuova religione del dato, in qualche modo, il dato che si fa l'uno attorno al quale tutti noi ci rivolgiamo come una specie di tribù con il suo totem. E quindi riassumendo questo mio breve commento, sinotticamente i punti sono com'è che questo tipo di discorso si affaccia al discorso del capitalismo? Tu hai detto magari ne parliamo dopo, allora parliamone. Com'è che tu fai una semiotica della luce e in che modo, secondo te, la luce ha acquisito una nuova rilevanza nell'epoca postmediale che noi identifichiamo a partire dal tuo lavoro del 2015 in questi termini? Sì. Dunque, il tipo di approccio che io faccio alla luce direi più e prima che semiotico è politico-economico nel mio senso. Cioè, noi dobbiamo pensare, propongo di pensare, che esistano una serie di risorse molteplici che attraversano sia il nostro corpo che il nostro ambiente. Noi maneggiamo queste risorse estraendole, manipolandole, scambiandole, facendole circolare in maniera tale da riplasmare la nostra nicchia ambientale, che indubbiamente è anche una nicchia semiotica, come dice già ricordato Paolucci. E quindi queste risorse sono risorse di ordine cognitivo, sono risorse di ordine materiale, con tutta una serie di scambi e di passaggi tra questi diversi livelli, che è importante cogliere, è importante considerare. Seguire gli sviluppi di quella particolare risorsa economica e anche economico-politica, perché naturalmente queste risorse plasmano, determinano le forme, gli andamenti degli ambienti comuni e quindi riguardano tutti, sono commons, sono risorse condivise e anche la scelta della loro allocazione può essere condivisa come può non esserlo. E qui la responsabilità dell'analisi è determinare perché, come, quando questo avviene. Detto questo, la mia idea è che è molto interessante seguire, per chi studia media ovviamente, un'economia politica della luce, in tutte le sue giravolte. Questo perché, a partire dalla nascita dei media moderni, quindi verso la prima metà dell'Ottocento, avviene un fenomeno molto particolare, cioè la luce si lega in maniera inestricabile alla produzione delle immagini, sia nella variante diciamo fotocinematografica e poi nella variante televisiva. La luce, quindi, che viene annessa al range delle forme elettromagnetiche, diventa uno strumento connaturato alla produzione delle nuove immagini, delle nuove tecnoimmagini, come dice Wiener Flusser, cioè appunto immagini che sono lichtbilden, come dicevano negli anni 30 in Germania, sono immagini luce, sono immagini fatte di luce. Ora, questo fenomeno vuol dire che le immagini entrano a far parte degli usi politici della luce, degli addensamenti, delle rarefazioni. Non a caso gli stessi teorici che lavorano, gli stessi tecnici teorici, gli ingegneri che lavorano sulle tecniche di illuminazione, dei monumenti, negli anni 30, lavorano anche sulle luci di scena dei film, per esempio. Quindi ci sono tantissime di queste corrispondenze che sottolineano questo nuovo ruolo politico che le immagini assumono in quanto immagini luce, in quanto tecnoimmagini. La situazione cambia, cambia, evolve, all'inizio degli anni 60 del 900, quando si comincia a individuare la possibilità di tradurre pattern di fotoni, tradurre il mondo non immediatamente in immagini, ma in dataset, in strutture di dati che poi possono anche essere eventualmente visualizzate. Ma in realtà la prima invenzione che fa questo, che è il perceptrone, il perceptrone, non cattura i pattern luminosi per poi rivisualizzarli, cattura i pattern luminosi per attuare delle procedure di riconoscimento con algoritmi di machine learning. Quindi è una primissima rete neurale costituita da un solo neurone, questo in effetti è così. Ma ancora adesso le reti neurali usano questo termine per indicare, diciamo così, i nodi o i neuroni interni per cetroni, per una ragione tecnica particolare. Ma in sostanza la cosa affascinante è che in questo modo l'economia della luce, dopo essersi legata con una economia delle immagini, si lega ulteriormente con una economia dei dati, che era nata negli anni 40 per l'invenzione della nozione stessa di informazione. Naturalmente tutto questo riguarda profondamente la semiotica, soprattutto i confini della semiotica. Il punto che mi sta a cuore è che questo nuovo tipo di, diciamo così, non possiamo chiamarla immagine, no? Questo pacchetto economico costituito da una certa quantità di luce, da una certa quantità di dati e da una certa quantità di immagini, quindi misurabile in fotoni, in bytes e in pixel, questa particolare entità è il fondamento, il mattone fondamentale di buona parte della circolazione economica contemporanea. Quindi non solo di un'economia della luce, ma di un'economia dell'immateriale, economia dell'attenzione, un'economia della reputazione, un'economia del tempo e poi di tante economie materiali, un'economia finanziaria, sappiamo le implicazioni che i big data assumono, big data che vengono prodotti proprio attraverso il nostro manipolare immagini, giorno dopo giorno, giorno per giorno. Quindi un'economia finanziaria, un'economia del mercato dei dati, ma anche un'economia dello scambio. Adesso pensate a tutte le implicazioni dei branded content, eccetera. Questo praticamente mi porta a sostenere due cose nel libro. La prima cosa è che la luce ha acquisito attraverso questi passaggi una natura infrastrutturale rispetto a processi economici più complessi. Con la luce si fanno i soldi, con la luce si attira attenzione. Questo naturalmente si era già mano a mano profilato nei passaggi che vi ho raccontato, però oggi è diventato molto evidente. La seconda cosa è che molte caratteristiche che noi attribuiamo al capitale algoritmico, per esempio, che è stato chiamato anche dalla Zuboff, sappiamo che è un capitalismo della sorveglianza. Molte di queste caratteristiche derivano esattamente da questo uso di questi pacchetti che possiamo chiamare immagini, io non li chiamo algoritmi nel libro, ma possiamo chiamarle immagini algoritmiche. Insomma, questi pacchetti, ripeto, di luce, informazioni e di immagini derivano dal modo in cui questi pacchetti funzionano. Questi pacchetti funzionano coinvolgendo costantemente chi guarda le immagini all'interno dell'immagine stessa e quindi attraverso quei processi di cui tu parlavi, di dataismo, di datificazione, eccetera, eccetera, che non sono un appendice, non sono, come dire, un qualcosa in più, eccetera, ma sono l'essenza stessa del modo in cui queste economie funzionano e questa essenza non viene dall'economia finanziaria, viene dagli sviluppi dell'immagine. Quindi l'immagine e il funzionamento dell'immagine è profondamente responsabile di questa economia della sorveglianza, economia dei dati, chiamiamola come vogliamo, in cui tutti, bene o male, compreso nel momento in cui stiamo registrando queste cose o qualcuno le sta riguardando, siamo tutti profondamente e costitutivamente immersi. Allora, per le cose che hai detto non mi sento più nella posizione di chiederti alcune specifiche cose che ti avrei chiesto perché le hai già dette, cioè magari non hai sottolineato esattamente certi passaggi con certe parole, ma ti avrei chiesto della questione, cioè perché tu sostanzialmente riduci o comunque traduci algoritmo in immagine e viceversa, ma mi sembra che tu l'abbia spiegato molto bene, o anche la questione di oggetto e dispositivo che mi interessa molto, cioè l'algoritmo come oggetto e dispositivo, però secondo me, diciamo, in quello che hai detto già ci sono le tracce per rispondere a questa domanda, quindi non ti chiederei di entrare ulteriormente nel merito, ti chiedo un'altra cosa che mi interessa molto di meno, ma che secondo me è una parte in realtà importante del libro e quindi mi sento di dovertela chiedere, diciamo. Allora, tu nel percorso che costruisci e con cui guidi il lettore verso, come dire, l'approfondimento di una serie di oggetti notevoli, che chiaramente emergono da uno sfondo più omogeneo e che ci fanno capire come funzionano alcune cose, alcuni ormai di natura completamente archeologica, come i famosi Google Glasses, come la macchina che si guida da sola di Google, sono stati una sorta di epifania tecnoteorica e poi sono stati obliterati per sempre, in qualche modo, dalla storia. Arrivi a questo famoso sesto capitolo che tu stesso, fin dalla riga, credo, 4 dell'introduzione, individui come la chiave di volta e di lettura di tutto il libro, perché lì tu tiri le fila, dici che come il tizio del padrino fa, come dire, regoli conti con tutti, effettivamente è la conclusione di tutto il discorso. Bene, in questo capitolo parli, come dire, della fotomicrografia, ok, e introduci, non so se è corretto dire il convitato di pietra, vabbè, fatemelo dire così, comunque il sesto elemento che tu, fin dal sottotitolo, diciamo eliciti, no, è la questione del Covid, della pandemia, eccetera. Quindi, ripeto, mi entusiasmano di più le questioni, a me personalmente, algidamente teoriche, tipologiche, su cui ti chiederei ulteriori cose, ma mi rendo conto che per il nostro pubblico può essere interessante capire qual è il ruolo di questo, direbbe, Alain Badu evento che ha fatto esplodere tutto quanto, o direbbe l'Ottman esplosione, insomma, come vogliamo. E in che modo, perché qua, secondo me, tiriamo fuori tutta una serie di fil rouge, di isotopie che abbiamo anche semi-obumerato, ripeto, anche quando abbiamo spettato Maria Giulia, che si è occupata delle immagini scientifiche con fontanillo, quella cosa è super interessante. Tra l'altro, come dire, in maniera accessoria, secondo me, quello è proprio uno dei campi in cui la semiotica può essere più ricca e più fertile oggi, per i non semiotici. Cioè, finalmente parliamo a qualcun altro che non sa esattamente cosa è l'attante informatore, ma gli diamo delle nozioni utili e magari gli spieghiamo anche l'attante informatore. Scusatemi la nota a piedi pagina. Quindi ti chiederei, Ruggero, se hai voglia di parlarci un poco del modo in cui rientra in questa tua riflessione sul capitale algoritmico, la questione della pandemia, del Covid, di tutto quello che da un punto di vista, qua l'abbiamo visto un po' con Valentina Manchia, delle infografiche, ma della manipolazione digitale delle immagini, è accaduto. Sì, ti ringrazio. Sono molto d'accordo, anzitutto, sul fatto che le immagini scientifiche, la costituzione, i modi in cui le immagini scientifiche vengono costituite, sono molto importanti. Sì, io ritengo che, come direbbe Latour, bisogna dare un po' anche voce ai dispositivi che costituiscono le immagini, e non solo alle immagini, perché i dispositivi hanno molto da dirci rispetto alle logiche, anche, se vogliamo, agli interessi, anche laturianamente al mascheramento dei limiti che le immagini scientifiche possiedono. Quindi sono d'accordissimo che si tratta di un campo estremamente utile, estremamente interessante, su cui lavorare, ma su cui c'è già, insomma, una produzione di lunga data, ecco, di lunga data, dentro e ai confini della semiotica, la Steed, ma lo stesso Latour. Questi ultimi lavori mi interessano molto, effettivamente. Ma dunque, per quanto riguarda il discorso pandemico, c'è tutto un aspetto che rimane molto sullo sfondo, direi, del mio libro, ed è la questione di come i nostri, soprattutto, diciamo, in lockdown, di come la nostra, diciamo, abitudine, il nostro habitus nel maneggiare le immagini algoritmiche si è diventato diffuso. Cioè, c'è stata, io penso, una forte naturalizzazione dell'immagine algoritmica che è entrata nelle nostre vite attraverso la tele didattica, attraverso le tante forme di videoconferenza, come questa che stiamo facendo. o di presentazione. Cioè, c'è una... E questo, naturalmente, è stato studiato, viene studiato, e potrebbe essere anche studiato anche di più, nel senso che, al di là di alcuni interventi, forse un pochino veloci, immediati, ci sono alcune questioni che potrebbero ancora essere esplorate. Sto pensando al problema, per esempio, alla questione delle forme della intimità che sono cresciute all'interno. Ma dovrei pensarci meglio, poi non è tanto il campo che esploro io, però lo ritengo un campo interessante. Invece, l'altro aspetto che esploro è dovuto, appunto, alle immagini dei microscopi elettronici, che, appunto, leggendo un po' di cose sulla pandemia, mi è capitato di leggere qualche saggio su questo tipo di immagini, che mi ha molto affascinato. Stavo chiudendo il libro, e queste immagini mi hanno affascinato molto. perché, rispetto alle cose che dico, sono in assoluta continuità. Si tratta di immagini che non nascono come immagine, lo diventano dopo. In realtà, per fare una fotomicrografia, alla fine la grafia è molto, diciamo, preliminare, anche graficamente, nella parola fotomicrografia. Nel senso che quello che è importante è la gestione di un flusso di elettroni, un flusso di elettroni che, in vario modo, colpendo, o attraversando, o venendo rifratto, cioè quindi o in base ad una legge diottrica, o in base ad una legge catottrica, colpisce una superficie, e quindi il pattern di elettroni viene registrato, che può essere registrato in tante forme. Naturalmente, per ragioni, diciamo, pure commerciali, di marketing, viene prodotta un'immagine, però la produzione dell'immagine è accessoria. Cioè, quello che importa è il pattern di fotoni con tutte le informazioni che questo pattern, scusate, il pattern di elettroni, con tutte le informazioni che questo pattern di elettroni reconsiglie, che viene poi tradotto in pattern di dati, quindi in una struttura di dati, struttura di dati che può essere lavorata, analizzata, e poi eventualmente, come dicevo, anche visualizzata. Questo mi ha colpito molto, perché ci fa vedere ancora una volta l'assoluta continuità tra, diciamo, l'elettricità, ma l'elettricità sta per, appunto, sta per alcune componenti dello spettro elettromagnetico. Quindi, l'elettricità, gli elettroni, da un lato, i corpi, i dati ed eventualmente i fotoni. Quindi, questo ci dice come i progressi tecnologici che hanno portato alle nuove immagini, comprese le nuove immagini scientifiche, lavorano tutti in questo perimetro economico, in cui le grandi forze del Novecento, che appunto era lo spettro elettromagnetico, si è legato, si è legato, per un verso ha scoperto di essere già legato, di essere già legato alla luce e per altro verso si è legato ai dati e a quelle particolari manifestazioni della luce che sono le immagini. E questa storia mi sembra comunque una storia interessante, una storia affascinante che ritroviamo, io penso, per tornare al punto di partenza, ritroviamo, io penso, in tutte le immagini scientifiche, ci sono stati degli studi, come sappiamo, soprattutto in ambito tedesco, sull'immagine scientifica, in tutte le immagini scientifiche prodotte automaticamente. È un processo che continua, in questo periodo mi sto occupando sempre delle stesse cose, comunque, e sto analizzando, cioè, sto realizzando, sì, sto vedendo i modi in cui può essere usato il Microsoft Kinect. Il Microsoft Kinect, che ha una camera infrarossi, una camera normale, che sono dei sensori che possono captare l'ambiente circostante tridimensionalmente, adesso, può essere usato anche per fare, come macchina per i raggi X, grazie ad una serie di implementazioni, o come uno scanner 3D. Quindi, diciamo, continuiamo, cioè, il discorso è sempre, sempre quello, il confine tra, diciamo, l'intrattenimento e la scienza è veramente, o, e altri ambiti, come in questo caso, anche la stessa sorveglianza, sono confini molto labili. Una parte che, secondo me, abbiamo surfato, ma poi siamo passati oltre, riguarda, ah no, aspetta, Gabriele, vuole dire qualcosa? Era una butad, scusate, ma volevo dire, niente, c'è uno spettro che si aggira per la semiotica, lo spettro elettromagnetico, ma soprattutto, volevo dire, che no, il caso che dice, che dice Ruggero, è diventato, scusatemi la parolaccia, virale, lo sappiamo tutti, con la foto, che non è una foto, del buco nero, no? È esattamente quello il punto, cioè, come c'è stata una, io direi, economia politica discorsiva dell'ontologia della foto, rispetto a quella cosa, che a me ha divertito, perché era un meme, di fatto poi è diventato un meme, ma, vabbè, insomma, volevo solo dire questa stupidaggine, Bruno, ti ridò subito la parola. Grazie Gabriele, prendo atto dello spettro elettromagnetico che si aggira, e, no, invece io dicevo, abbiamo forse surfato, ma non siamo entrati ancora a fondo, in una delle ulteriori direzioni che il libro prende, che è un po' quella più marcatamente esperienziale, che riguarda, come dire, tutto il cotè di realtà aggettivo a scelta virtuale, aumentata, estesa, mista, su cui tu dedichi un capitolo, non mi ricordo, credo sia il quattro, che mi interesserebbe magari approfondire, perché tu da un lato anche qui appunto parli di due tipi di macchina, una macchina, come dire, esibitiva e una interazionale, no? Sei interessato qui anche a contestualizzare questo tipo di macchine visuali o esperienziali nell'ambito di una circolazione di risorse specifica e ti chiederei se non ci sei rimasto un po' male che proprio dopo, poco dopo l'uscita alle stampe del tuo volume, Zuckerberg abbia presentato il progetto Metaverse che si prefigura forse tutta una serie di tue intuizioni, le mette in ordine e dice sì, è vero, Eugenio aveva ragione, adesso facciamo i soldoni con questa roba, mettiamo insieme immagine, corpo, esperienza, grandissimo flusso di dati perché c'è bisogno di una quantità di internet eccezionale, investimenti, di capitali, mostruosi, un pochino tutto convogliato in questo ur o meta progetto di realtà estesa. Aggiungo una cosa, credo che Zuckerberg intenda Metaverse utilizzando Meta nella cessione con cui noi lo utilizziamo per metafisica, qualcosa oltre, ma in realtà è più interessante intendere il Metaverse come noi intendiamo la metacomunicazione, non solo qualcosa oltre ma qualcosa dentro, qualcosa come dire, una sorta di misera beam dell'universo. Il problema di Zuckerberg è che sicuramente non ha letto Genet e questo crea tutta una serie di conseguenze. Potremmo fare una class action e regalargli se non ha la trilogia delle figure di Genet, ecco. Ruggero, a te se vuoi come dire chiosare sulla faccenda. non ha il microfono attivo. Scusate, mi avevo perso il corso. Dunque, anzitutto eviterò la battuta di essere in contatto con Zuckerberg avergli suggerito perché però questo ritorno della realtà virtuale è un po' ciclico, no? La realtà virtuale è un po' come quelle invenzioni, come il videotelefono che è stato studiato molto bene da Peppino Ortoleva che tornava nelle illustrazioni francesi della fantascienza dell'Ottocento e poi si è realizzato con i nostri telefonini, con le nostre cose in maniera completamente diversa da quello che pensavamo. In realtà, sì, Zuckerberg ha in mente Neil Stevenson che è l'autore di questo romanzo che è Snow Crash degli anni Ottanta che è un tardo cyberpunk, insomma, quindi è un po' come dire, la matrice la matrice di neuromante ripensata e i suoi uomini marketing non hanno trovato probabilmente di meglio. Dunque, quello che mi interessa ma perché allora, però, perché io penso che sì, è vero che alcune cose che io ho pensato vengono confermate, acclarate da questa scelta di tornare sulla realtà virtuale da parte di diverse aziende, adesso, vabbè, Zuckerberg che aveva già comperato però già da prima l'azienda Oculus, no? Quindi, perché, perché, allora, io penso che, beh, due cose, anzitutto che quando parliamo di realtà virtuale è un campo molto variegato su cui occorre fare un po' di chiarezza e sotto questo aspetto appunto io provo a fare un po' di chiarezza a partire da, vabbè, dal termine più che di realtà virtuale, di realtà estesa e dentro la realtà estesa capire come si collocano la realtà virtuale, la realtà virtuale cinematica, realtà aumentata, realtà mista. E questo cominciamo a farlo proprio in quel saggio che citavate prima, peraltro, per il numero di lexia cominciamo a farlo insieme a Valentino Catricalà che è un giovane curatore di mostre di arte virtuale molto bravo che adesso lavora in Inghilterra. La mia idea è sotto questo aspetto è quella di riprendere i vari tipi di dispositivo maturati, di dispositivo mediale maturati nell'Ottocento e capire come si incrociano con le forme di interattività. Quindi quello che io chiamo i dispositivi prospettici, cioè che stanno di fronte a uno spettatore, circospettici e quindi che circondano, quelli perspettici o transpettici, cioè l'asse di vetro su cui vengono proiettate immagini ma che permettono anche di guardare dal di là, e infine inspettivi o inspettici, cioè in cui occorre guardare dentro, proviamo a vedere che succede quando vengono contaminati con le procedure di interazione con le immagini che sono rese possibili dall'immagine digitale grosso modo insomma a partire dagli anni 50. E da qui nasce una tipologia un po' più ragionata di quanto si possa fare. la morale però le morali sono diverse però quella che mi interessa qui è una cioè che in buona sostanza le varie forme soprattutto quelle più avanzate di realtà aumentata si basano su un'idea apparentemente molto semplice ma in realtà molto complessa e rivoluzionaria cioè i sensori che sono le componenti tecnologiche diciamo di cattura di captazione di estrazione della realtà non risiedono più solo nel momento della della costituzione dell'immagine in quanto separata dalla visione come diciamo nel modello rinascimentale il modello prospettico in realtà i sensori stanno anche e soprattutto all'interno degli ambienti di fruizione delle immagini sia in quanto outside in quindi i sensori del Kinect di cui parlavamo prima e tanti altri strumenti i radar a onde millimetriche i sensori a luce strutturata che di fatto scansionano l'ambiente ne costituiscono un modello le camere plenottiche ne costituiscono un modello tridimensionale dell'ambiente e anche all'interno dei visori quindi non più outside in ma inside out e quindi tutte quelle telecamere e sensori che invece sono montati sui sensori sono montati diciamo sugli elmetti o sulle tute sul corpo dell'experienzer come dice nell'ultimo libro Andrea Pinotti l'ultimo libro di Pinotti è dedicato proprio alla aniconicità come dice lui è appena uscito credo per Einaudi alla aniconicità di queste immagini che essendo prive di cornice contestano la stessa cosa che sto dicendo io contestano l'idea di una immagine iconica rappresentativa cioè una immagine in cui il momento produttivo e il momento fruitivo sono separati invece in questo caso e questo in questo caso vengono fusi c'è una vera e propria conflazione di due momenti questo ha una serie di implicazioni adesso le cose potremmo anche ragionare un po' di più ma a me sta a cuore questo che in questa conflazione tra captazione del reale e confezionamento dell'immagine e fruizione dell'immagine viene meno la dualità tra un sistema osservatore e un sistema osservato e l'osservatore nel momento in cui entra a far parte dell'immagine entra a far parte entra a far parte attiva peraltro dei processi di captazione dei processi di cattura dei processi di ingestione dei processi di estrazione delle informazioni dal mondo reale alle strutture di dati strutture di dati che per captare questa attività del fruitore questi suoi gesti movimenti azioni deve evidentemente attrezzarsi a una captazione che non è momentanea puntuale eventistica come nel passato ma è una captazione dinamica è una captazione diciamo in tempo reale è una captazione che tiene conto del mutamento costante del mondo e delle sue forme di vita infatti si parla di fenomeni live tutto questo ci porta a quello che dicevo prima secondo me è questa nuova natura dell'immagine algoritmica che si trova nella realtà aumentata ma si trova anche in altre forme che rende l'immagine il modello di funzionamento del capitalismo contemporaneo che è un capitalismo che che estrae la vita nel suo farsi non voglio dire automaticamente che questo sia un bene un male non voglio neanche pensare che questo porti automaticamente a forme di alienazione perché voglio evitare ogni determinismo dico che questo accade cioè che diciamo la cultura la logica del capitalismo contemporanea è che naturalmente prolunga diciamo così cognitivo messo in luce molto bene peraltro Bifo ve lo dirà molto meglio di me dagli operaisti italiani l'idea che la fabbrica è la società e la società è la fabbrica quindi ma questo diciamo così ha fatto un salto nel senso che questa captazione questa cattura in gestione eccetera questa estazione di risorse vuole 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 catturare la vita nel suo farsi nel suo procedere per poter usare questi dati eventualmente anche visualizzandoli ma non necessariamente ecco perché qui si pone un problema politico che è quello non della gestione della privacy benissimo eccetera ma di di che cosa fare delle nostre vite una volta che sono state datificate allora Ruggero secondo me ci avviamo verso la conclusione ma prima dobbiamo finire di spremerti per bene cioè ti chiedo uno sforzo nel senso che voglio riassumerti la domanda che ci fa Federico Montanari che ringraziamo e salutiamo in qualche modo mi sembra che il cuore della domanda sia come rendere conto da un punto di vista socio-semiotico di quelli che tu hai chiamato pacchetti di dati e qua io mi ricordo in qualche modo una possibile risposta da un'altra puntata diciamo di Semi-Boomer cioè in qualche modo per esempio Paolucci in persona parla della questione dei big data come esempio contemporaneo molto concreto che speriamo tutti di enunciazione impersonale questa è la sua chiave di lettura quindi ti propongo la domanda di Federico poi mi piace rilevare che hai sottolineato due punti che tu nel libro tratti e sottolinei cioè in qualche modo la recrudescenza della teoria critica in seno agli studi sui media di oggi non hai citato gli operaisti questo lo fai nell'introduzione sottolinei anche in conclusione invece che non vuoi in alcun modo preoccupandoti molto in questo corpo a corpo che hai descritto molto bene con i testi e con le pratiche e con gli oggetti di tecnologie cioè di oggetti tecnici che bisogna smontare eccetera dici però io non sarò mai determinista questa cosa a noi è molto cara quindi mi piace risottolinearla è proprio così a tradimento infilo una domanda perché non riesco a resistere devo chiedertela quindi rispondi con un sì con un no con poche parole come preferisci però devo chiederti quanto è importante oggi per un semiologo come te o come in generale la questione dell'esperimento questa è una cosa che mi interessa tantissimo cioè tu hai lavorato molto anche in un contesto diciamo laboratoriale di esperimenti con neuroscienziati o comunque insomma hai fatto delle cose che hanno a che fare con l'idea di esperimento che per noi è un po' strana no? è un po' strana da gestire ma anche solo da ricreare cioè da progettare quindi scusami sintetizzo pacchetti di dati socio-semiotica la domanda di Federico quanto può essere importante per un semiologo nel 2021 confrontarsi con l'idea di fare una semiotica di un esperimento che magari lui stesso ha progettato questa è una cosa che non potevo non chiederti a tradimento prima di farlo rispondere dico solo lo stiamo chiedendo a colui che ha lavorato molto più di altri sulla sull'esperienza no? quindi è una domanda via più maliziosa e notazione a metà praticamente tutti i capitoli del libro sempre per tornare sul libro si aprono con un principio aneddotico che è sostanzialmente sperimentale cioè Eugenie dice mi trovavo qui stavo facendo quella cosa lì e per qualche motivo facendo quella cosa lì mi è uscito fuori il problema qui forse la domanda di Gabriele è interessante perché nel libro sembra quasi che quella sia la causa del porsi la domanda mentre la questione sperimentale ha a che fare anche col generare gli effetti e poi lavorarci sopra dunque molto rapidamente anzitutto grazie a Federico questo mi permette di ricordare la presenza di Federico però mi permette di ricordare come in effetti l'immagine di guerra l'immagine militare sia stata determinante nello sviluppo di tutte queste non solo le mie riflessioni ma dello sviluppo fattuale di di tante di tante tecnologie e delle logiche che che lo sostengono cioè appunto quello che qualcuno chiama lo sguardo militare è stato uno sguardo tecnologico logistica della percezione eccetera eccetera ma anche proprio in termini di finanziamenti e di sviluppi di sviluppi tecnologici quindi c'è stato un ruolo molto importante della guerra in questi sviluppi che ho raccontato delle immagini e quindi anche nella loro datificazione sì certo una sociosemiotica dei dati è da fare ma il problema è che i dati sono invisibili quindi bisognerebbe capire come fare una sociosemiotica dell'invisibile cioè di un oggetto invisibile il che è uno simoro nella testa di un semiologo che invece ha bisogno di un oggetto da studiare i dati sono invisibili e possono essere cioè noi li possiamo soltanto visualizzare anche in forme astratte di griglie di fogli anche in forme astratte di 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 varie di vari modi di ordinarli adesso sto pensando agli strumenti che offre python per i vari strumenti di ordinamento dei dati eccetera possiamo ecco già questa sarebbe interessante lavorare cioè già su questo cioè come i dati che ripeto sono di qualcosa di assolutamente invisibile cioè non sono assolutamente privi di qualunque tipo di sostanza non è proprio vero insomma perché comunque sono delle stringhe di numeri binari che hanno una loro natura anche materiale una loro natura atomica però il diciamo il primo problema sono senz'altro accordo che è molto interessante una sociosemiotica cioè non ripeto non delle immagini eccetera ma delle strutture di dati e naturalmente anche dei software che servono a manipolarli l'andrebbe fatto ma il primo uno dei problemi che si incontrano è dove è il nostro oggetto cioè come dicevano i teorici francesi degli anni 70-80 è un oggetto introvabile questo perché e quindi bisogna capire anzitutto come i dati si possono visualizzare anche in maniera diciamo non iconica ma è un'ottima è un'ottima suggestione l'altro no l'altro tema è quello dell'esperimento sì in realtà non ne parlo in questo libro non ne parlo è vero che parto da basi esperienziali dico molto sinteticamente cosa ne penso dunque io penso che sia sia una buona cosa fare esperimenti diciamo di tipo scientifico sia una buona cosa perché perché si toccano con mano i limiti del semiologo e i limiti dell'esperimento stesso cioè si tocca con mano come il fatto che io non saprei fare soprattutto non saprei elaborare i dati degli esperimenti se non con l'aiuto di colleghi non solo neuropsicologi ma anche statistici per la verità o neuropsicologi con ampie competenze statistiche di data analisi qualche volta anche di scrittura di algoritmi perché indubbiamente un un esperimento chiede delle competenze specifiche che io non non possiedo alcuni miei collaboratori che venivano dalla dall'estetica come Federica Cavalletti che adesso lavora appunto con Andrea Pinotti se ne è fatte un po' ma insomma però il punto è anche che si toccano con mano i limiti dell'esperimento cioè si tocca con mano quello che l'esperimento può dare a partire da attrezzature tecnologiche quadri di precomprensione che l'attrezzatura tecnologica porta con sé cioè tutto tutto quell'armamentario discorsivo molto complesso che che Bruno Latour nella quando appunto cominciava a fare diciamo così una etnometodologia dell'analisi laboratoriale ha portato molto bene alla luce e quindi la costruzione del dato scientifico e compresa di cui l'immagine scientifica fa parte è un processo generativo complesso e non sempre non sempre diciamo così ideologicamente neutro detto questo detto questo però aggiungo questo che secondo me anche l'analisi semiotica è un esperimento io ho cercato di sostenerlo fin da semiotica dei media cioè anche il semiologo che usa che attiva un'esperienza e la analizza passando diciamo dalla prima alla terza persona sta facendo un esperimento cioè il l'uso dei programmi di computer per analizzare un audiovisivo è un setting sperimentale allora il problema è capire come questo tipo di esperimento abbia la stessa dignità sperimentale di un esperimento che invece mette una macchinetta che stimola alcune aree cerebrali o inibisce alcune aree cerebrali di un povero studente per capire che cosa succede poi nelle sue reazioni ha la stessa natura solo è un esperimento di tipo diverso allora a questo punto si tratta di capire come costruire quel livello meta che permetta di trarre il giovanimento dei risultati dei due esperimenti tenendo conto delle loro capacità e dei loro limiti e si tratta appunto di di come diceva Paolo Fabri non soltanto di invitare altre discipline ma di formulare bene il biglietto d'invito il miglior biglietto d'invito è quello che dispone i posti a tavola e quindi è un invito a spostarsi sempre a livello meta non per arroccarsi questo è importantissimo a livello meta non per arroccarsi a livello meta ma per fare costantemente questo lavoro faticosissimo di passaggio dal livello meta al o ai livelli empirici con un andirivieni che però io penso sia l'unico scientificamente produttivo ricordo sempre con piacere tra le prime pagine di semiottica dei media come tu costruisci un gedanken experiment immaginate di stare guardando un concerto in televisione il concerto si apre con una carrellata dall'altro eccetera eccetera cioè costruzione di un esperimento mentale quindi effettivamente l'esercizio semiotico che è mirato come dire analizzare le forme dell'esperienza mediale ha bisogno di essere a sua volta mediato da un qualche tipo di sperimentazione che in quel caso è una sperimentazione immaginativa direi dovrei rileggere il libro ma l'avevo letto questo te lo riprova e niente Ruggero io credo che il nostro tempo sia terminato come voi avete colto voglio dire una cosa io cerco sempre mi diverto molto a fare questa questa cosa di truccare come si truccano le macchine e truccare i libri cioè prendo mi diverte prendere una struttura il più possibile rigida assestata e metterci dentro un motore teorico cioè a me piace fare teoria così ecco cioè fare teoria usando o lo strumento del manuale come in semiotica dei media o lo strumento diciamo del libro di divulgazione di alta divulgazione come quest'ultimo libro però a me questo sembra molto divertente perché lì si vede il lettore cioè lì si vedono i livelli del lettore ecco se avessi tempo mi piacerebbe anche scrivere un racconto cioè provare a fare una semiotica invece calata come faceva molto bene Umberto Eco insomma non sempre si può fare tutto però insomma fare questo lavoro di truccare le macchine ecco truccare i saggi secondo me è un buon esercizio teorico insomma tecnicamente si parlerebbe di tuning no l'esercizio di truccare le macchine io direi forse l'ho detto Gabriele ma più di un anno fa pimp my semiotics no una semiotica un'analisi pimpata beh scusami anche fine turing a questo punto non solo fine esatto ne abbiamo a bizzef ma la cosa come diceva Ruggero è interessante proprio perché quella cosa lì come dire è un camouflage che stimola un altro livello di competenza nel lettore ma non è pura cosmesi o dico la parola cosmesi riferendomi a Gabriele Marino che la usa spesso in questi termini Ruggero grazie mille speriamo di essere stati di compagnia grazie a voi mi sono divertito vi ringrazio vi ringrazio moltissimo e niente per il resto lo sapete l'abbiamo detto due tre volte settimana prossima Franco aperte virgolette bifo chiuse virgolette per arti con Alessandro Sarti insomma Semioboomer Ruggero lavora per e modulare quindi ha tutta una serie di isotopie che segue in questo caso continuiamo nel percorso che abbiamo tracciato con te oggi grazie Gabriele grazie Ruggero Ruggero se vuoi rimanere off camera noi ci salutiamo e per tutti gli altri alla settimana prossima ciao